Stanno per concludersi i lavori di restauro dei locali del vecchio ospedale nel centro storico di Poppi, per ospitare poi i servizi associati dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino che si sposteranno proprio qui in questa struttura. Voi sapete che l'Unione dei Comuni Montani del Casentino a sede attuale sarà demolita per essere ricostruita con nuovi criteri, soprattutto di natura antisismica. Quindi in questo periodo, dove saranno i due o tre anni necessari per realizzare la nuova struttura dell'Unione dei Comuni che è già stata deliberata, quindi è già un percorso avviato, sarà posto il problema di dove in qualche modo trasferire gli uffici presenti in via Roma 203 a Ponte a Poppi. Quindi in accordo positivo con tutti gli altri sindaci che fanno parte dell'Unione, abbiamo ritenuto opportuno e giusto allestire la struttura per ospitare nel tempo necessario, come ho detto, di questo lavoro i servizi dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. In questo modo saranno concentrati, per quello che riguarda i servizi associati qui a Poppi, per quello che riguarda le deleghe regionali, già siamo trasferiti in un locale della regione che è a Pianacci in comune di Bibiana e lì c'è il servizio forestale e le deleghe regionali. Gli altri aspetti che sono legati proprio al servizio associato che facciamo fra i Comuni verranno svolti per il tempo qui a Poppi. Però avevate già iniziato il recupero e il restauro di questo immobile? Avevamo iniziato un percorso di recupero, di ammodernamento dal tetto ai solai, agli impianti termici, agli impianti elettrici perché nelle prospettive e nell'idea dell'amministrazione era quello di crearci un punto di riferimento per quello che riguarda la frizione turistica non solamente di Poppi ma di tutto il Casentino. Una cosa importante, quando sono previsti la fine di questi lavori in modo che potete fare tutto questo trasloco? Noi trasloco l'impegno che abbiamo preso tra sindici, quindi tra le rispettive strutture tecniche è quello che dal mese, dai primi giorni di novembre, la struttura sarà disponibile per fare questo. Tra l'altro la struttura è anche talmente grande per cui abbiamo sempre in accordo con la Proloco di Poppi Centro Storico abbiamo riservato una parte anche delle strutture alla Proloco che ovviamente non andranno a interferire con gli uffici dell'Unione però il posto è talmente grande che questo ci permette di avere questa doppia funzione. Poi chiaramente sono due o tre anni di attesa e in questi due o tre anni vedremo di trovare poi ulteriore destinazione nel momento in cui gli uffici se ne andranno. Però in questo momento, in questo periodo, credo che sia giusto, sia stato opportuno questa operazione perché questa operazione porta vita nel centro storico. Vita nuova anche per l'ex ospedale di Poppi e quindi in questo caso guardiamo anche come saranno distribuiti e dove saranno distribuiti proprio i servizi e gli uffici dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Allora vedi, sul primo piano sarà destinato agli uffici dell'Unione dei Comuni. Nei piani laterali abbiamo come Comune l'archivio, al primo piano invece ci verrà il CRED, la Mediateca dell'Unione dei Comuni. Al primo piano qua giù lo sportello unico dell'attività produttiva, il SUAP. Nella parte là sono lo spazio riservato, dentro c'è un salone di 400 metri quadrati. e lo spazio riservato alla Proloco. Qua giù sono stanze su cui dobbiamo lavorare, ma l'idea è quella di renderle disponibili per una biblioteca e comunque di aprirle a pubblico. Questa parte qua invece è rimasta di proprietà della ASD. e nella parte di sotto abbiamo quello che è l'ufficio della USD che visita per le invalidità. Il centro storico ha bisogno di due cose per sopravvivere, passate a questo termine. Uno, la residenza, persone devono tornare a vivere nel centro storico e implementare quelli che sono i servizi che si possono erogare non solamente per i residenti nel centro, ma per tutta la comunità, in questo caso per tutto Casentino. Questo penso che sia una buona cosa. Vediamo, ora si naviga, data la situazione del Covid, purtroppo si naviga molto a vista. Questa è indeterminazione che questo virus in qualche modo ci sta creando, soprattutto nel progettare cose che poi magari sei a realizzare ma non puoi fare per via dei stanziamenti, di tutta questa situazione di contenimento nato.